Ci siamo amici di Calcianapoli24, siamo arrivati a Barcellona, mancano due giorni al match che decreterà quale squadra tra Napoli e Barcellona approderà i quarti di finale e ovviamente non si giocherà al Camp Nou, non si giocherà nello stadio che ha già visto il Napoli giocare il trofeo Gamper con Walter Mazzari in panchina e che ha visto la squadra di Gennaro Gattuso prima e Luciano Spalletti poi uscire da Champions ed Europa League perché il Camp Nou come potete vedere è sotto lavori perché dopo il Real Madrid e vi abbiamo fatto vedere anche il Santiago Bernabeu durante la trasferta con i nostri inviati anche il Camp Nou sta subendo dei totali lavori di ristrutturazione con la demolizione della vecchia struttura e la ricostruzione non soltanto dello stadio che ha visto giocare gli azzurri in passato ma anche tutta l'area circostante non si giocherà per questa stagione al Camp Nou, si ritornerà al 50% della capienza, spettatore più spettatore meno nella prossima stagione poi tra due anni il nuovo stadio del Barcellona, questa qui è la situazione attuale dei lavori non si giocherà qui, si giocherà allo stadio olimpico del Munchuic, sarà una prima volta per il Napoli e domani lo andremo a scoprire assieme con la conferenza stampa dell'allenatore Francesco Calzona e di un calciatore della squadra azzurra, quindi vi lasciamo con le immagini di quello che era lo Spotify Camp Nou per ragioni di sponsorizzazione, la speranza che il Napoli in futuro ci possa tornare in Champions e che domani ovviamente si presenti un match che possa vedere il Napoli vincitore quindi ai quarti di finale il Napoli il Napoli il Napoli il Napoli Grazie.